Uno dei problemi su cui più si è concentrato il pensiero dei filosofi del passato è la ricerca delle parti del cervello dove sta lo spirito umano o l'anima. Per esempio molti si sono concentrati sui ventricoli cerebrali che sono delle cavità che sono all'interno del cervello, delle cavità piuttosto piccole che possono ingrandirsi in determinate malattie del tronco cerebrale. Il contenuto di questi ventricoli, secondo alcune teorie aria, secondo altre acqua, sembrò credibile come vettore per diffondere gli spiriti animali, che era un termine molto usato una volta e presente ancora nel XVIII secolo per indicare l'unità di trasmissione nervosa. L'accento sui ventricoli o cellule, come venivano spesso chiamati, produsse un concetto che era quello di ricettacolo, di deposito e di circolazione. Secondo questa teoria un essere umano racchiude un principio vitale o spirito che ha sede nei ventricoli, i vuoti del cervello, da cui controlla gli organi di senso. Dai ventricoli originano i nervi, veri e propri canali di conduzione dello spirito prodotto dai sensi verso le rispettive mente. E si pensava che la sostanza cerebrale vera e propria non fosse altro che una ghiandola secernente, il fluido contenuto nei ventricoli, e che la sostanza bianca, con i suoi molti canali visibili a ingrandimento, si limitasse a trasportare, a veicolare il fluido ai nervi in tutto il corpo e di qui ai muscoli. Questo modello propone una similitudine tra il cervello e il tempio, perché i templi antichi erano costituiti da un vestibolo, da un consistorio e da un'apoteca. E nel vestibolo i postulanti si sottoponevano alle interrogazioni legali, nel consistorio le autorità valutavano le dichiarazioni, e nella foteca venivano emesse le decisioni e le sentenze. Gli eruditi del tempo attribuivano funzioni analoghe alle cavità cerebrali. La raccolta delle informazioni avveniva nella parte anteriore, mentre le funzioni esecutive si svolgevano in quella posteriore. I disegni della testa e del cervello del Medioevo attribuiscono rispettivamente ai ventricoli anteriore, mediano e posteriore le funzioni di immaginazione, ragionamento e memoria, che allora erano considerate le tre componenti dell'intelletto, immaginazione, ragionamento e memoria. Con queste correlazioni anatomiche arrivarono anche i riferimenti all'umidità, alla temperatura e alla densità. E così Anasagora pensava che tutte le sostanze fossero costituite da coppie, di qualità antitetiche, umido-secco, caldo-freddo, luce-buio. Teoria in seguito applicata dai medici per spiegare la salute e la malattia. Alcmeone di Crotone rivestì questa teoria elementare di una metafora politica. Lo stato della salute dipende da un'equilibrata ripartizione di umido-secco, caldo-freddo, amaro-dolce e così via. La dittatura di una qualità sulle altre causava la malattia. Per esempio pensiamo alla febbre. Dittatura del caldo. Si credeva che la visione e la fantasia avessero sede nel primo ventricolo, caldo e secco, che la logica e il ragionamento razionale risiedessero nel ventricolo mediano, caldo e umido, e la memoria nel ventricolo posteriore, secco e freddo. Su queste teorie prevalse quella di Cartesio, matematico e filosofo e fisiologo francese del XVII secolo. Lui dice che i ventricoli servono a conservare e a distribuire i sottili, volatili, invisibili e immateriali spiriti animali. Credere negli spiriti animali e assegnare una sede corporea all'anima immortale erano un tutù. Ed ecco perché i primi tentativi di capire il rapporto che oggi definiamo mente-cervello fu allora una questione privata tra teologi più che tra medici o tra scienziati. E infatti fu il clero a imporre i concetti anatomici durante tutto il Medioevo. Per oltre due secoli filosofi, teologi e medici hanno discusso sulla sede cerebrale dell'anima. Non si è trattato però di una crescita della conoscenza, per cui da una scoperta nasceva lo stimolo per farne delle altre. Il progresso fu lento e irregolare, quando non si trattò invece di un regresso, di un tornare indietro. Galeno, medico romano del II secolo d.C., eseguì esperimenti sui maiali, sezionando i nervi sensoriali e motori, ipotizzò che i nervi sensoriali confluiscono nella parte anteriore del cervello, che a suo dire era più morbida e quindi più recettiva, mentre i nervi motori nascono dalla parte posteriore del cervello, fatta di materia più consistente. E anche se le ipotesi di Galeno si sono dimostrate sbagliate dal punto di vista anatomico, perché le aree sensoriali e motorie sono proprio al contrario, quelle motorie sono frontali e quelle sensoriali sono posteriori, la spinta ad assegnare le funzioni motorie inferiori e quelle sensoriali a parti distinte del cervello servì come traccia a Cartesio, 1400 anni dopo, quando formulò la prima descrizione sistematica del rapporto tra mente e cervello. E Cartesio, nella sua ricerca della sede dell'anima, partì dall'ipotesi che esistessero due sostanze differenti, entrambe create, il corpo e l'anima, definita anche mente. Il corpo, diceva Cartesio, è esteso nello spazio, la mente invece è immateriale e la sua essenza è il pensiero, una sostanza puramente pensante che può, anche se non sempre, regolare il corpo. Però, da quanto afferma Cartesio, si pone una grande questione. Come può un corpo fisico influire su una mente senza dimensioni? Perché Cartesio diceva che il corpo aveva una sua dimensione, una sua fisicità dei limiti, la mente invece no, era senza dimensioni. Allora, come può un corpo fisico influire su una mente che non ha dimensioni, che non ha estensione? Oppure come può il corpo subire gli influssi di qualcosa che invece non ha dimensione o estensione? E qua, si fermò un po', Cartesio, propose una soluzione, quella di individuare un punto nel cervello che potesse essere la sede materiale dell'anima, un punto molto, molto, infinitamente piccolo, centrale, e lui lo individuò nell'epifisi, che è una ghiandola che si trova nella parte posteriore del terzo ventrico, diciamo così. E lui, collocando quindi l'anima nell'epifisi, o ghiandola pineale, lui pensava di aver risolto questo problema, questo impasse di fronte al quale si era venuto a trovare, e di avere fondato le basi filosofiche di un nuovo rapporto tra mente e corpo. Però, il rilievo dato all'epifisi, non ci ha insegnato niente sulla relazione tra attività mentale e funzione cerebrale, e non era neanche nelle sue intenzioni. Cartesio, piuttosto, si proponeva di localizzare le funzioni superiori della mente in un'area di contatto infinitamente piccola, una sorta di punto matematico. Eppur, riconoscendo l'importanza del cervello, la sostanza vera e propria, e non i vuoti ventricoli, non era interessato a suddividerlo. La mente interagiva col cervello attraverso l'esile, ma centrale, epifisi. E per Cartesio la storia finiva lì. Ma poi, e il merito di Cartesio fu quello di portare la questione del rapporto mente-cervello su un piano nuovo, più elaborato. E arriviamo a Thomas Willis, un medico vissuto al tempo di Cartesio, che respisse l'iportesi cartesiana della ghiandola pineale, e sosteneva invece che il cervello controlla le azioni volontarie e le sensazioni, mentre il cervelletto, struttura posta dietro il cervello, era responsabile dei movimenti involontari, come l'attività del cuore, dei polmoni, attività che oggi attribuiamo nella sua regolazione al sistema nervoso autonomo, simpatico, parasimpatico. Nonostante avesse conservato le antiche suddivisioni della mente, vi ricordate, sensazioni, sensazione, immaginazione, memoria, Willis li spostò, allora, dai ventricoli, dove le mettevano una volta, verso più precisi siti della sostanza cerebrale, quindi cervello e cervelletto. Dopo cent'anni, un chirurgo francese, Le Peyronie, pubblicò un articolo in cui descriveva un esperimento particolare che era stato eseguito su un giovane soldato che aveva ricevuto una ferita gravissima dove un'asta era penetrata attraverso l'occhio fino al corpo calloso. Il corpo calloso è un fascio di fibre bianche che collega i due emisferi tra di loro, quello di destra e quello di sinistra, e praticamente sta al di sopra del terzo ventrico e dei ventricoli laterali. Iniettava dell'acqua nella ferita, questa ferita prodotta dal pezzo di ferro, e il paziente perdeva conoscenza. Poi, quando riassorbiva quest'acqua, il giovane riprendeva coscienza e da questo pensò di avere scoperto il luogo dove l'anima esercita la propria funzione. E questo articolo che lui scrisse per descrivere questo esperimento divenne subito un classico, tra i medici almeno, della prova della sede primaria dell'attività dell'anima. Oggi risulta essere una cavolata, ovviamente, no? Perché inodare il cervello di acqua per poi riassorbirla non è che dimostri proprio niente sul centro dei poteri mentali, semplicemente disturba come l'equilibrio dei fluidi e degli elettroliti che regolano la coscienza. Però questo articolo di Le Peroni rappresentò un ulteriore passo avanti, segnò il passaggio dalla filosofia e dalla teologia alla medicina. Per lui fece un esperimento, un esperimento scientifico di tipo medico, e ci fece capire che le facoltà mentali potevano essere situate in aree precise del cervello. Ho visto il corpo calloso, no? Però la transizione dal mondo spirituale a quello clinico fu difficile, dolorosa, laboriosa. Nel 1746 Julien Ophouat osò affermare che il cervello non è un passivo ricettore di impressioni, ma un creatore del pensiero e fu costretto a emigrare in Olanda. E qui scrisse un secondo libro, L'uomo macchina, in cui sviluppò i rapporti tra struttura del cervello e pensiero e sosteneva che il cervello umano, il più sviluppato di tutti, ha anche il maggior numero di circonvoluzioni in rapporto alle dimensioni corporee. E questa teoria cancellò ogni concezione immateriale dell'attività mentale. Ma tra la fine del diciottesimo, e il diciannovesimo secolo si riaccese il dibattito tra mente e cervello e rimase più vivo che mai. E ci fu un famoso testo di anatomia intitolato L'organo dell'anima che irritò un personaggio della statura di Goethe. E Goethe scrisse all'autore dicendogli all'incirca così limitati a spiegare dove finiscono le terminazioni nervose e lascia le questioni dell'anima a chi filosoficamente è all'altezza. E la sua rabbia ci spiegava. Goethe e i contemporanei credevano che l'anima pervadesse ogni cosa vivente e non potesse essere localizzata in un luogo, in un sito ben preciso. A parte questo, il cervello offriva abbastanza opportunità e complessità senza bisogno di metterci dentro anche l'ineffabile, quello che non può essere detto. un incidente sul lavoro e siamo il 13 settembre del 1848 in una cittadina del Vermont dove c'è un'esplosione mettendo una carica esplosiva e ovviamente provoca un'esplosione e quest'asta di ferro schizza via con forza e lo ferisce sotto l'occhio sinistro. L'uomo ha una ferita gravissima che coinvolge i lobi frontali da questa ferita ci pensavo che non sarebbe mai guarito. Dopo poche settimane cammina da solo senza avere nessuna lesione apparente ma cosa vedono? Che cambia? Cambia in peggio, cambia carattere. È un altro. Cosa scrive il suo medico? La sua salute fisica è buona e sono incline a pensare che gli sia guarito. Ma sembra svanito l'equilibrio o la compensazione per così dire tra le sue facoltà intellettive e le sue pulsioni animali. È volubile, irriverente e si lascia andare alle volgarità più grossolane e che non fa parte del suo comportamento precedente. Manifesta poco rispetto verso i compagni. È intollerante ai controlli e ai consigli quando contraddicono i suoi desideri. E capita di essere molto ostinato ma anche capriccioso e volubile. Fa molti progetti per l'attività futura ma li abbandona prima ancora di cominciarli. il danno subito da questa persona si chiama Gage e gli effetti devastanti sulla sua personalità fecero discutere molto sul finire del XIX secolo. Un dibattito che continua tra chi ritiene che le funzioni mentali siano localizzate almeno in linea di principio in precise aree del cervello e chi invece pensa che il cervello lavori in modo globale. Tra quelli che sostenevano la localizzazione il più brillante fu Franz Joseph Gall. Questo da bambino era incuriosito dalle apparenti correlazioni tra i talenti insoliti dei suoi amici e le differenti conformazioni dei loro volti e dei loro crani. Gall pensava che una particolare forma della testa potesse suggerire anche una particolare conformazione di certe aree cerebrali e quindi certe capacità correlate alla forma di queste aree cerebrali. Se il cervello fosse composto da tante aree quante sono le facoltà e i sentimenti e poiché esse erano localizzate sulla superficie del cervello influivano sulla conformazione del cranio e quindi sarebbe bastato palpare la scatola cranica per scoprire le facoltà mentali emotive e intellettuali di un individuo. Egli creò dunque una nuova scienza della mente e del comportamento che fu gradita sia ai conservatori che ai progressisti ed ebbe successo. Da un lato portò acqua al mulino di quei non egualitari che vedevano nella frenologia questa era la nuova scienza una prova anatomica delle differenze biologiche innate e quindi la saggezza della struttura sociale prevalentemente classista. Però la frenologia fu anche un veicolo per soppiantare le religioni tradizionali con una nuova etica del miglioramento personale. Un libro molto popolare dell'Ottocento di George Combe osannava la frenologia come guida della conoscenza di sé e quindi come possibilità di migliorarsi. Conoscere sé e gli altri in un'ottica frenologica significava prestare attenzione alle predisposizioni alle attitudini agli interessi e allora se uno conosce i suoi doti può cercare di applicare e di sviluppare proprio quelle doti di cui è fornito. Si pensava che queste conoscenze sarebbero state un punto di partenza per l'educazione dei figli per la riabilitazione dei criminali e per un miglioramento della società nel suo insieme. Quindi due visioni diverse due modi di pensare e di utilizzare la frenologia. Oggi sappiamo che non esiste necessariamente una relazione tra l'ampiezza forma del cranio anatomia del cervello e capacità mentali e in un certo senso lo sapeva anche Gall. L'importanza però di queste ricerche risiede nella perseveranza, nel sostenere che il cervello, un meraviglioso insieme di apparati, deve essere la fonte di tutte le teorie della mente e del comportamento. oltre a ciò, Gall sottolineò l'importanza della osservazione, della misurazione e della biologia che misero da parte la speculazione o la sterile teorizzazione. ulteriore passaggio sempre dalla filosofia e dalla speculazione alla scienza, alla osservazione, alla dimostrazione. Una delle convinzioni che risulta valida ancora oggi di Gall fu l'importanza dei lobi frontali. Oltre al linguaggio, la memoria verbale come egli lo definiva, Gall assignò ai lobi frontali tutte le facoltà intellettuali e sostenne che al loro grado di sviluppo va imputata la nostra intelligenza. Questa attenzione verso i lobi frontali stimolò nei due decenni successivi le ricerche culminate nella scoperta di un centro del linguaggio vero e proprio nel lobo frontale sinistro. Gall però fu il pioniere di una delle due grandi teorie sull'organizzazione del cervello. il localizzazionismo. Poi ci fu un certo Pierre Florence che mise a nudo i cervelli di molti animali cani, piccioni e conigli e isolate nelle varie parti le rimuoveva o le distruggeva e osservò che la distruzione dei lobi cerebrali e la parte anteriore del cervello che nei mammiferi include la corteccia cerebrale causava la perdita di spontaneità. L'animale sedeva il mobile ma se stimolato dallo sperimentatore si muoveva e Florence allora sezionò la corteccia cerebrale in fette successive e ne osservò gli effetti sul comportamento delle sfortunate creature notando che l'effetto finale dipendeva dalla quantità di tessuto cerebrale che era stato tolto e non tanto dalla sua localizzazione e da questi esperimenti Florence trasse una conclusione un po' bizzarra che gli emisferi cerebrali non sarebbero la causa diretta del movimento muscolare nella sede dei movimenti coordinati ma a suo dire aree cerebrali responsabili della volizione della volontà o della autodeterminazione dell'animale e quindi pur ammettendo che le sensazioni elementari e i semplici movimenti riflessi sono localizzabili nel cervello sosteneva anche che funzioni superiori come la percezione l'intelletto e la volontà sono integrate e operano di concerto nell'intero cervello che è la loro sede esclusiva Florence era un uomo religioso che credeva all'unità dell'anima e nell'indivisibilità della mente scrisse un libro nel 1846 dedicato a Cartesio e in questo accusava Gallo e colleghi di minacciare l'unità dell'anima l'immortalità il libero arbitro e l'esistenza di Dio il rifiuto di Florence e dei suoi seguaci di considerare gli emisferi cereali alla pari del resto del cervello era l'espressione del loro credo secondo cui per conservare la nostra identità di esseri umani contrapposti agli animali l'origine della specie di Darwin sarebbe stato pubblicato solo una decina di anni dopo alcune parti del cervello dovevano rimanere inviolabili e secondo Florence i seguaci dell'Europa del primo ottocento queste parti erano gli emisferi cerebrali per tutto il quarto di secolo seguente il dibattito tra i localizzazionisti rappresentati da Gallo e i sostenitori della teoria dell'equipotenzialità di Florence continuò e nel 1861 il pendolo si spostò nettamente dalla parte dei localizzazioni e fu quando Paul Broca descrisse la sua indagine effettuata sul cervello di un paziente visitato sei giorni prima che morisse in ospedale il paziente fu soprannominato Tan perché non sapeva proferire altre parole durante l'autopsia Broca scoprì una lesione del lobo frontale sinistro la scoperta di un'area precisa responsabile del linguaggio confermò quanto aveva sostenuto Gall ma sollevò anche una questione perché il linguaggio dovrebbe riguardare il solo lobo frontale sinistro e non tutti e due i lobi e sebbene per noi oggi sia normale pensare che i due lati del cervello assolvono funzioni differenti Broca e i suoi contemporanei non sapevano nulla della specializzazione degli emisferi cerebrali e credevano nella simmetria funzionale di tutti gli organi bilaterali trascorse il mezzo secolo altri scienziati scoprirono nuove aree implicate nel linguaggio nella visione nell'orientamento spaziale e addirittura nelle sequenze motorie della vestizione eravamo entrati nel santuario degli emisferi cerebrali ed allora nessuna parte del cervello sarebbe stata considerata inaccessibile ma studiando la sola anatomia o la struttura rimangono aperti i limiti dai problemi se ci chiediamo secondo quali principi opera il cervello cioè in parole povere come funziona i soli tagli anatomici o le teorizzazioni sulle scoperte di qualche scienziato non ci possono dare delle risposte soddisfacente per capirne di più dobbiamo ricorrere alla neurofisiologia che è lo studio del funzionamento cerebrale i primi esperimenti di neurofisiologia usarono la corrente elettrica applicandola agli emisferi cerebrali e allora la stimolazione degli emisferi di un cane attivava i movimenti delle gambe e delle dita sul lato opposto dell'emisfero stimolato mentre la distruzione delle stesse aree causava la paralisi permanente degli arti e quindi a dispetto di quanto si era creduto per tanto tempo gli emisferi erano coinvolti nel movimento se la mente emerge dall'attività cerebrale come sono organizzati i pensieri i sentimenti e tutte le altre facoltà mentali del cervello Herbert Spencer l'ultimo grande filosofo che abbia contribuito con originalità alla nostra comprensione del cervello ipotizzò che lo sviluppo mentale si verifica lungo un continuum e cioè che i processi mentali superiori si evolvono a partire dai semplici riflessi e dagli istinti secondo Spencer non c'è ragione per distinguere in modo netto mente cervello né per credere che gli emisferi così grandi nell'uomo rispetto alle altre creature funzionino seguendo principi differenti da quelli che governano l'attività delle altre parti del cervello e Spencer influenza di molto Jackson un filosofo dilettante convertitosi alla neurologia e Jackson di carattere melanconico meditativo era un acuto osservatore degli effetti delle lesioni e delle malattie del cervello e pensò a lungo alle implicazioni di quanto andava osservando aveva un grande interesse soprattutto per l'epilessia che considerava una chiave per entrare e per avvicinarsi le funzioni le funzioni cerebrali e in particolare studiò una forma di epilessia che oggi porta il suo nome il crisio Jacksoniale dell'epilessia focale l'attacco procede seguendo un ordine preciso in queste forme di epilessia o una progressione Jacksoniana che coinvolge dapprima il volto poi la mano e il braccio quindi la gamba dello stesso lato per tramutarsi infine in un attacco epilettico diffuso che scaraventa a terra il paziente e spesso durante uno di questi attacchi il paziente vive un'inquietante e inspiegabile perdita temporanea della volontà di muoversi ancora più spaventosi e dolorosi sono le esperienze di inesplicabile paura o terrore in cui il paziente prova la sensazione di essere distante da sé un senso di straniamento di alterazione e che il mondo incomba meno accioso e sinistro su di lui ogni azione rimane temporaneamente congelata e le funzioni mentali superiori la ragione la memoria le emozioni sono alterate senza controllo esaurito l'attacco epilettico il paziente ritorna allo stato normale osservando i propri pazienti soggetti a tali forme psichiche di epilessia Jackson concluse che tutte le funzioni mentali da quelle automatiche a quelle apparentemente più etere dipendono dall'attività dei circuiti senso-motori del cervello deve essere così concluse perché dopo una lesione cerebrale sono colpite tanto le azioni volontarie quanto quelle automatiche o in altri termini viene colpita da volontà il merito di Jackson non fu tanto quello di avere localizzato le funzioni cerebrali nel cervello cosa già nota ma quello di avere proposto la stimolante ipotesi che l'attività mentale è fatta di risposte motorie a stimoli sensoriali la complessità di queste risposte motorie pur variando dalla complessità della reazione automatica di un ginocchio stimolato da un martelletto alla formulazione di una teoria scientifica o alla composizione di un sonetto riguarda in ogni caso forze bilanciate che controllano una gradazione di movimenti dai più volontari ai più involontari Jackson immaginò l'organizzazione del cervello come una sorta di piramide o gerarchia di funzioni di complessità crescente in condizioni normali le funzioni superiori del pensiero razionale e dell'intenzionalità cosciente prevalgono sulle risposte automatiche e più istintive dei livelli inferiori localizzati sotto agli emisferi nel tronco cerebrale e nel midollo spinale e nel pensiero di Jackson sono confluite l'evoluzione e la coscienza di classe quanto mai opportuna in un'epoca fortemente influenzata e scossa da rivoluzioni e insurrezioni Jackson parlava di controllo e di attivazione di disgregazione e del conseguente risveglio dei livelli cerebrali primitivi in seguito a lesioni dei centri superiori infatti un danno al cervello dovuto a un colpo apoplettico a un tumore ad altre cause ancora causava un'inversione del processo evolutivo e l'ascesa di forze inferiori a taviche nell'occasione Jackson si è valsio anche di un linguaggio politico per illustrare la propria teoria se il corpo di governo di questa nazione fosse annientato di colpo avremmo due motivi per dolercene la perdita dell'apporto di uomini eminenti l'anarchia del popolo ora senza controllo gli esperti di scienze sociali fecero proprio la gerarchia neurologica di Jackson lo psicologo sociale francese Gustave Lebon studioso del comportamento delle masse definì la massa uomo spinale cioè un organismo guidato solo dai riflessi del tutto separato dai centri superiori del giudizio e del ragionamento Freud incorporò l'organizzazione gerarchica di Jackson nelle proprie teorie delle malattie mentali parlare di regressione verso comportamenti precedenti e più primitivi non è altro che la trasposizione in psichiatria della terminologia neurologica e descrivendo il rapporto tra l'io consapevole e razionale e l'ess istintivo e amorfo Freud coniò la metafora dell'uomo a cavallo il cui compito è controllare la forza superiore guidata dalle passioni dell'animale tempo una generazione le teorie del cervello sono passate da metafore teologiche e filosofiche a metafore politiche e sociologiche l'emergente comprensione del cervello è sempre dipesa molto dalle convinzioni filosofico religiose degli scienziati mentre Florence era profondamente religioso Broca era un sostenitore dell'ala sinistra anticlericale in Francia tesa a sostituire l'etaria filosofia di Cartesio con un orientamento più terreno materialistico quale modo migliore se non dimostrare che il linguaggio la facoltà umana per eccellenza era fisicamente localizzato in una parte precisa del cervello in quel modo l'anima quantomeno una delle sue manifestazioni veniva vincolata nello spazio ogni generazione attinge le proprie teorie sul cervello del clima sociale politico e tecnologico del momento oggi per esempio i computer e le altre tecnologie emergenti offrono dei suggerimenti se non proprio delle spiegazioni complete sul funzionamento del cervello questa infattuazione tecnologica è un aiuto ma anche un ostacolo al tempo stesso in quanto l'ammirazione che ogni generazione ha per le nuove potenti tecnologie lascia il posto in genere dopo pochi decenni ad altre tecnologie ancora più sofisticate non ultimo è il problema dell'autosufficienza un rebus che smorza la fiducia che mai si potrà arrivare a spiegare definitivamente il cervello un uomo è seduto su una sedia intento a svolgere un comitolo di spago mentre il filo discorre tra le dita lo studia attentamente come per cercarvi un significato nascosto solo chi osserva la scena capisce che il compito dell'uomo è improbo dato che la sua testa è il gomitolo di spago che origina il filo un analogo paradosso autoreferenziale riguarda la nostra comprensione del cervello e dei suoi rapporti con la cosiddetta mente impieghiamo il nostro cervello per capire come la mente è legata al cervello da cui origina ogni pensiero inclusi i nostri sforzi mentali per arrivare a tale comprensione credo che siamo di fronte a una variante della scommessa di Pascal che sosteneva che credere in Dio ha un senso perché se Dio non esistesse tutto finirebbe con la morte e ciò è privo di senso ma se Dio esiste e se crediamo in Lui forse riceveremo il premio che i credenti si aspettano forse accade lo stesso a proposito del cervello anche se non lo comprenderemo appieno di sicuro impareremo un mare di cose utili al riguardo arricchendo la mente la nostra vita e se invece ci sbagliamo e capiremo realmente tutti gli aspetti del suo funzionamento allora quale meta più elevata ci può aspettare visto che tutta la nostra vita mentale origina dal cervello fu proprio Jackson a stimolare queste riflessioni filosofiche Jackson più di ogni altro tra i scienziati citati formulò una teoria originale del cervello valida ancora oggi e che continua a influenzare la neurologia la psichiatria e le neuroscienze teoriche la teoria gerarchica di Jackson è rappresentato un punto di svolta anche per un'altra ragione il riconoscimento che possono verificarsi i processi mentali ordinati anche se non ne siamo consapevoli tuttavia questa scoperta ha generato un nuovo interrogativo il sé è un'unità come ipotizzavano i pensatori precedenti o i vari modi in cui si disgrega sono il segno di una molteplicità è un enigma che continua a porsi ed è il cuore di molte ricerche non solo la gioia il piacere e il riso ma anche il dispiacere il dolore la tristezza le lacrime nascono nel nostro cervello e solo in esso il cervello ci fa pensare e capire vedere e udire distinguere il bello dal brutto il bene dal male Dio dal demonio chi diceva queste cose era Ippocrate medico filosofo greco quarto secolo avanti Cristo che per primo aveva riconosciuto nel cervello la sede della mente e così si lasciò alle spalle migliaia di secoli di speculazione che favorivano come sede della mente vari organi del corpo per esempio gli antichi egiziani privilegiavano il fegato e Aristotele propendeva invece per il cuore e considerava il cervello nient'altro che un sistema di raffreddamento del sangue e poi dobbiamo fare una scalata di molti anni finché nel diciannovesimo secolo due personaggi Paul Broca e Carl Wernick eseguirono e supervisionarono una serie di autopsie di pazienti che in vita avevano sofferto di afasia una disfunzione della produzione della comprensione della parola del linguaggio e questi scoprirono che alcune aree dell'emisfero sinistro in questi malati erano andate distrutte e qui nacque una seconda intuizione rivoluzionaria capirono che l'emisfero sinistro mediava la produzione e la comprensione del linguaggio parlato ma la loro scoperta ebbe una portata più ampia perché dimostrò che il cervello non è un sistema omogeneo dove tutte le parti sono equivalenti ma è composto di centri specializzati situati in vari distretti dei due emisferi è unico il cervello da questo punto di vista pensiamo per esempio al fegato una lesione in qualsiasi parte del fegato produce sempre gli stessi effetti pensiamo alla milza lo stesso pensiamo ai reni più o meno lo stesso pensiamo al cervello non è così ogni parte del cervello ha una specializzazione funzionale una lesione in una particolare sede del cervello produce degli effetti assolutamente particolari e propri anche di quell'individuo quindi il cervello è l'unico organo diciamo così che ha delle specializzazioni funzionali e da questo punto di vista c'è anche una corrispondenza clinica una volta che vediamo un sintomo tipo neurologico possiamo anche arrivare a stabilire la sede di questo stile cioè dov'è la lesione senza anche senza vederla soltanto sapendo che appunto la sede nel cervello cambia secondo di come cambiano le lesioni nel secolo successivo altri neurologi altri specialisti trovarono nuove correlazioni tra la struttura e la funzione del cervello e veniamo alla terza rivoluzione nella comprensione del cervello che è venuta non tanti decenni fa maturata a partire dall'idea che il cervello abbia una struttura gerarchica cioè gli emisferi cerebrali le aree più recenti e quelle più evolute del cervello controllano le aree più antiche ereditate quasi identiche da quelli che sono i nostri antenati dal punto di vista evolutivo per quanto sia una concezione dotata di una certa utilità ignora recenti ricerche secondo cui anche una funzione apparentemente diretta come la visione non è unitaria ma coinvolge diversi processi paralleli che lavorando insieme in collegamento tra di loro creano la nostra esperienza e si arriva quindi a una delle ultime concezioni del cervello quella modulare secondo la teoria modulare la nostra esperienza non è il risultato della ricomposizione in un sito centrale in un luogo centrale all'interno del cervello degli elementi percettivi delle esperienze sensoriali e percettive che facciamo in maniera separata cioè non esiste un sito un luogo centrale dove tutto converge anche se per secoli si è pensato il contrario per esempio Cartesio e colui altri filosofi hanno dato anche un nome quello di homuncus a questo che supponevano un coordinatore centrale del cervello una personificazione che ricorda un po' il manager di un'azienda quello a cui tutto arriva e cui tutto decide non c'è stata non si è trovata la minima prova dell'esistenza di un supervisore centrale autonomo e poi se mai ci fosse stato chi è che l'avrebbe creato questa teoria invece del cervello modulare dice che molteplici connessioni attive simultaneamente e in parallelo danno come risultato l'attività la funzione del cervello e ciò significa che non esiste una stazione centrale una destinazione finale dove per esempio possa risiedere l'anima o la coscienza e se non esiste una stazione terminale o un centro allora chi è quel me che incontro quando mi guardo dentro sicuramente la gran parte di noi non si percepisce come modulare come un insieme di centri di strutture che lavorano in parallelo ma come un unicum con una propria coscienza e singolarità eppure importanti e miranti aspetti della nostra psicologia possono cambiare o svanire in seguito per esempio a un trauma cerebrale in altri casi in seguito a difetti dello sviluppo del cervello e potrebbero anche per esempio non essere mai scoperti e se io sono il risultato dell'attività di un'immensa rete di interconnessioni tra cellule nervose dove una cellula può essere influenzata dalla risposta di 40 o 50 miliardi di altre cellule allora come devo considerare la percezione interna di me stesso secondo cui rimango praticamente lo stesso per tutta la vita che ne è del libero arbitrio i filosofi hanno discusso per secoli sull'unità della persona sulla natura dell'emozione sull'autonomia e sulla creatività i risultati che hanno ottenuto sono stati molto disparati e concordano molto poco su di loro su questi temi contrariamente a quanto molti filosofi hanno scritto percepire e conoscere è un unico processo per esempio la visione non ha nulla da spartire con una macchina fotografica in cui l'occhio concentra la luce sulla retina sulla quale viene scattata una fotografia poi trasmessa al cervello lungo le vie visive finché sia interpretata piuttosto il cervello costruisce attivamente quello che vediamo e quindi siamo al contempo macchina fotografica pellicola fotografo e anche immagine e come due fotografie non sono mai identiche a causa di alcune differenze in qualcuno di questi elementi anche il nostro cervello proprio in virtù della sua organizzazione modulare crea per noi un'immagine del mondo assolutamente unica per esempio la creatività artistica riguarda in maggior misura alcune aree cerebrali che sembrano più sviluppate nelle persone dotate di talento artistico e questo cosa significa che la creatività artistica è primariamente un tratto ereditario e che gli individui con i geni sbagliati non saranno mai creativi le osservazioni di ogni giorno sembrano contraddire tale affermazione molti artisti provengono da famiglie prive di particolare talento per l'arte eppure la creatività di alcuni suoi artisti sembra implicare facoltà mentale una perfetta intonazione la scrittura e l'ascolto delle parti musicali nella propria testa non spiegabili col solo affinamento che si riscontra di solito nei talenti musicali esperimenti recenti sui musicisti per esempio con la TEP con la tomografia ad emissione di Positron hanno fatto ulteriore luce sulla creatività di un musicista per esempio Ravel e sui meccanismi cerebrali modulari e sui meccanismi